Questo video riguarda i migliori tre pellet. Il vincitore della qualità nel nostro pellet vale al fresco chef. 10 kg di acacia coppia con carne di manzo, pollo e frutti di mare. I nostri pellet sono prodotti da legno rotondo europeo fresco. Il legno viene scortecciato, suddiviso in truccioli di legno e essiccato in un tamburo rotante essiccatore, prima di schiacciare in piccoli pezzi e comprimere in pellet di legno senza leganti o riempitivi aggiunti. La nostra gamma di pellet è disponibile in una varietà di specie per infondere il vostro cibo con sapore di fumo. L'alfresco chef ha un semplice obiettivo, lasciarti sfuggire con tutte le ultime idee di cucina casalinga, attrezzature e accessori. Puoi divertirti a diventare creativo con pizze innovative e altri piatti, esplorando nuovi sapori e godendo di meravigliose esperienze gastronomiche e culinarie insieme. Condividiamo il tuo appetito per il cibo e il divertimento, quindi perché non trasformare la tua serata pizza con deliziose creazioni fatte in casa. I nostri forni a legna, accessori e ricette sono stati progettati per gli appassionati di pizza e cucina di tutte le età e abilità. Con qualcosa per tutti, ti forniremo le attrezzature, le competenze e l'esperienza per ottenere i sapori più completi per te e per i tuoi cari. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il BBQ Pellets Olive. I pelletti in legno d'olivo provengono dal cuore della Spagna e sono al 100% di varietà e senza additivi come eleganti. I pelletti di oliva donano al cibo un aroma intenso e delicato di legno d'olivo ed è particolarmente adatto per maiale, pollame, pesce, manzo, agnello, verdure. Ci sono solo circa da 500 grammi a 600 grammi per ora. Usato a seconda dell'applicazione e della griglia. I pellet sono adatti per tutti i comuni barbecue come barbecue a pellet, barbecue sferici o forni affumicati. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel pellet è il MHL Pellet Light. I nostri pellet sono totalmente privi di leganti chimici, con un basso contenuto di umidità, tra il 6 e il 10% e un contenuto di ceneri tra lo 0,20% e lo 0,70%. Hanno un alto valore calorico, 5,13 kWh su kg, che è molto più alto di altri combustibili di origine legnosa. La qualità del nostro pellet è costantemente controllata dagli enti di certificazione, che già all'inizio del 2017 hanno rilasciato la certificazione ANPLAS A1, UA005, la prima certificazione rilasciata sul territorio ucraino per il pellet in A1. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.